Presidente Bitonci, è in corso nella giunta delle elezioni del Senato la discussione sulla decadenza di Berlusconi. Qual è l'opinione della Lega Nord a questo proposito? Ci sono le tre pregiudiziali. Sappiamo che il tema fondamentale è quello legato alla legge Severino, cioè se la norma è costituzionale o no, se vige in maniera retrattiva oppure no. E su questo tema io penso che ci voglia assolutamente tempo. Noi chiediamo tempo. La nostra senatrice, Erika Stefani, che è componente della Commissione, ha avuto da pochi giorni centinaia di carte e di documentazione che deve essere analizzata, visionata. Dopo di questo espriremo il nostro voto. Certo che l'Iter non può essere risolto in 24 ore. È logico che se il Partito Democratico e i Cinque Stelle si mettono d'accordo per un voto così veloce in 24 ore, come sembra che sia, è un chiaro intento di eliminare Berlusconi attraverso la giunta per le elezioni. Al di là di tutto noi pensiamo invece che debbano essere presi i tempi giusti. Bisogna aspettare la verifica sulla legittimità costituzionale della legge Severino. Dopo di questo potremmo anche arrivare al voto, ma assolutamente non prima di qualche settimana. Vista la fretta di PD e Movimento 5 Stelle, il PDL minaccia ancora una volta di togliere la fiducia al Governo. Ormai è diventata il refrain di queste ultime settimane, di questo ultimo mese. Noi continuiamo a dirlo, lo dice sempre il nostro segretario federale Maroni. Noi siamo per le elezioni anticipate, per le elezioni subito, però il Governo dovrebbe cadere per quello che non sta facendo in queste settimane, in questi mesi, dal punto di vista economico non è stato fatto assolutamente nulla. A parte l'eco bonus che ha avuto un lieve esito positivo per quanto riguarda il settore dell'edilizia, ma il decreto fare e soprattutto provvedimenti come lo svuota carceri sono stati assolutamente negativi. Questo è un Governo che tira a campare per portare avanti, per arrivare magari al 2015, per vedere cosa succede all'interno del Partito Democratico oppure all'interno del PDL. Noi pensiamo che si debba andare alle elezioni subito, il Governo non c'è, il Governo non sta facendo nulla. Certo che non deve cadere per una problematica di carattere giudiziario o perché si vogliono velocizzare o far fuori i segretari di altri movimenti politici attraverso la Giunta per le elezioni. Quindi elezioni subito ma non attraverso la via di giudiziaria. Grazie.